E' tempo di ripartire. Rilancia la tua attività insieme a noi gratuitamente su Icaro TV, Radio Icaro e News Rimini. Per aderire basta un clic. Gruppo Icaro.it. Ripartiamo insieme. Buonasera e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione locale di Icaro TV, i titoli principali dell'edizione di oggi. Per il terzo giorno consecutivo nessun decesso in provincia di Rimini, casi ancora ridotti, intanto negli ospedali arrivano gli steward. Molti imprenditori ancora preoccupati sul tema della responsabilità in caso di contagio dei dipendenti, l'INAIL chiarisce, ma restano dubbi. Orari e servizi più ampi. I comuni balneari alle prese con stime allarmanti per le ripercussioni sull'economia turistica chiedono più autonomia nella gestione della spiaggia. Per le scuole paritarie, prime risposte dal decreto rilancio, ma la situazione resta difficile. Gli istituti riminesi rinunciano allo sciopero, ma rilanciano l'allarme. Anche oggi le notizie sul fronte coronavirus per la provincia di Rimini sono positive, anche sul fronte della pressione sugli ospedali. Ospedali, dove arriva anche una novità, vediamo. Da 72 ore nel riminese non si muore più di Covid-19. Il virus non è magicamente scomparso, però sembra aver concesso una tregua. Il numero delle vittime quindi resta fermo a 231. Varia di pochi invece quello dei contagi, 2103 in totale, 5 in più di ieri. La diffusione del virus ha registrato da un paio di settimane a questa parte una brusca frenata, non solo a livello provinciale, ma in tutta la regione, dove i nuovi casi di positività oggi sono 47. Le guarigioni procedono al ritmo spedito 231 nelle ultime 24 ore, così come la diminuzione dei malati effettivi, 195 in meno rispetto a ieri. In Emilia-Romagna però si registrano 11 nuovi decessi che portano il totale a sfiorare quota 4.000, numeri che mettono i brividi e che devono essere da monito per tutti. Il coronavirus, pur essendo in ritirata, è ancora tra noi e quindi va combattuto con il distanziamento, con i dispositivi individuali di protezione e con il rispetto di quelle poche ma essenziali regole che ormai sono diventate parte della nostra quotidianità. In tanti pazienti che da domani si recheranno negli ospedali della provincia troveranno all'ingresso dei veri e propri steward. I compiti principali saranno quelli di controllare che gli utenti indossino correttamente la mascherina, di verificare il rispetto della distanza di sicurezza e di indirizzarli nel luogo preciso della prestazione. Infine, all'Infermi di Rimini, il sesto piano Covid, dove erano stati allestiti un'ulteriore quarantina di posti per gestire l'emergenza, domani verrà chiuso. Un'altra buona notizia verso il ritorno alla normalità. E dal fronte sanitario a quello delle attività dove ci sono ancora dei dubbi, nonostante la riapertura di molti esercizi e imprese dopo la fine del lockdown, ci sono parecchi imprenditori che restano alla finestra a frenare molti operatori del turismo e non solo è il tema della responsabilità in caso un dipendente risulti contagiato. L'Inail ha provato a rassicurare, ma mancano ancora certezze. Dal riconoscimento del contagio da Covid come infortunio sul lavoro non deriva automaticamente una responsabilità del datore di lavoro. La precisazione su uno dei temi più dibattuti in questa fase di ripartenza arriva dall'Inail attraverso un comunicato stampa. I criteri per il riconoscimento dell'indennizzo al lavoratore infortunato sono infatti totalmente diversi da quelli che valgono in sede penale e civile dove l'eventuale responsabilità deve essere accertata attraverso la prova del dolo o della colpa. Inoltre, spiega ancora l'Inail, la molteplicità delle modalità del contagio rendono estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro. Una rassicurazione che però ancora non basta alle categorie. Da più parti arriva infatti la richiesta di considerare l'eventuale contagio come malattia e non come infortunio. A farsi portavoce delle preoccupazioni del mondo del turismo in particolare è il presidente provinciale di Confcommercio Gianni Indino. Le dichiarazioni sono confortanti, spiega, ma manca un atto formale chiaro e veloce. Al momento infatti restano, nero su bianco, l'articolo 42 del decreto Cura Italia e la circolare 13 dell'Inail che dicono il contrario. Senza certezze su questo tema che apre al rischio di cause e risarcimenti in molti decideranno di non aprire, spiega Indino, chiedendo subito un atto formale che sollevi l'imprenditore che sta alle regole da responsabilità che non gli competono. Per i comuni balneari la buona notizia è che le attività in spiaggia dopo le richieste di anticipare i tempi potranno ripartire dalla prossima settimana, ma a fronte di questo primo risultato restano tante incertezze per le quali i sindaci chiedono maggiore sostegno alle istituzioni regionali e nazionali. Le proiezioni della Camera di Commercio della Romagna segnano già un sensibile divario negativo sugli effetti del coronavirus per i comuni della costa romagnola rispetto all'economia nazionale e regionale e i comuni che fanno del turismo balneare un loro caposaldo lanciano il grido di allarme. I cinque comuni della costa riminese, Bellaria, Rimini, Riccione, Misano e Cattolica, hanno scritto all'assessore regionale Andrea Corsini per ribadire la difficile situazione del settore e chiedono di poter avere la possibilità di intervenire sulla gestione della spiaggia nella direzione di ampliare l'orario di fruizione dell'arenile anche in orario notturno e incentivare la somministrazione dei pasti in spiaggia anche col delivery. A chiedere sostegno per il comparto e anche il G20 delle località balneari italiane che comprende Bellaria, Riccione e Cattolica, i sindaci delle 20 cittadine del gruppo stimano per il 2020 milioni e milioni di euro in mancati introiti derivanti da tassa di soggiorno, COSAP, i muetari con conseguente rischio di default per le casse comunali. I sindaci chiedono nello specifico la rimodulazione del fondo di solidarietà e il riconoscimento dello status di città balneare con la conseguente presa d'atto che per questi comuni l'economia turistica è prevalente e i danni in questo momento sono più pesanti. Questa mattina al cimitero civico di Rimini si sono svolte in forma privata e civile le esecue di Walter Vallicelli, storico partigiano e presidente dell'Ampi di Rimini, deceduto sabato a 93 anni. A ricordarlo, oltre alla moglie Carla e i figli Libero e Loredana, tanti amici e compagni del suo impegno civile sono intervenuti il presidente dell'Ampi provinciale Giusy Del Vecchio e la vicepresidente comunale Silvia Zoli, il prefetto Alessandra Camporota e il sindaco di Rimini Andrea Agnassi, l'Ampi riminese, che ha trasmesso in diretta a Facebook la cerimonia fa sapere che Vallicelli sarà ricordato con un'iniziativa adeguata e aperta alla cittadinanza non appena le condizioni lo consentiranno. Arriva anche in provincia di Rimini la protesta delle scuole paritarie che, senza adeguati contributi da parte dello Stato, vedono a rischio la loro sopravvivenza. È stato annunciato col decreto rilancio un primo sostegno da 40 milioni, ma la situazione resta critica. Maestre Pie, suore di Santo Nofrio, oltre ad altre realtà del territorio, hanno fatto sentire la loro voce, pur non aderendo alla due giorni di sciopero della didattica online, come era stato proposto a livello nazionale. Invisibili al governo nazionale e regionale. Con questo slogan, le scuole paritarie, che in Italia contano 900 mila studenti, portano avanti la loro protesta, dopo che le istituzioni hanno previsto solo delle briciole per sostenerle. Le riminese e gli istituti hanno deciso di non scioperare dalla didattica online, come era stato proposto per oggi e domani a livello nazionale, ma con un appello forte si sono fatti sentire. Alcune scuole proprio non riapriranno, da quello che ho sentito dire io per le informazioni che ho io, perché poveretti sono stati messi veramente con le spalle al muro. Molti di queste persone, molti studenti si riverseranno nella statale. Sembra quasi che ci sia un disegno perverso che sia quello di volerci far chiudere, di volerci far chiudere questa voce diversa nell'ambito dell'educazione italiana. Ed è questo, francamente mi preoccupa più di ogni altra cosa. Durante queste settimane le scuole paritarie hanno affrontato con responsabilità l'emergenza, ma oggi chiedono un reale sostegno per poter continuare ad essere risorsa per ragazzi e famiglie. Anche la CEI è scesa in campo a sostegno delle paritarie e la speranza è che un'altra preziosa voce possa intervenire. La scuola paritaria è una risorsa doppia in questo momento. Non solo il problema verrebbe fuori dal fatto che si riverserebbero nella statale e lì si capisce già quale potrebbe essere la difficoltà, ma nessuno ha mai pensato che attualmente i genitori che iscrivono i loro figli nella scuola paritaria, non ricevendo nessun benefit o dei benefit che sono veramente ridicoli rispetto all'importo dovuto, nessuno si rende conto che quei genitori stanno pagando la scuola paritaria e nello stesso tempo con le loro tasse hanno pagato anche la scuola pubblica. Io ho dei genitori e dei nonni che nella mia scuola hanno scritto direttamente al Papa per rimendicare il diritto di vivere nella nostra scuola. Mascherine e guanti gettati a terra dopo essere stati utilizzati, un'immagine sempre più comune purtroppo in molte città, che comporta oltre al rischio sanitario anche un grosso danno per l'ambiente. Il gruppo Era ha realizzato insieme al giornalista e attore Giorgio Comaschi un video per spiegare come e dove gettare i dispositivi di sicurezza individuale. La gente che gira con la mascherina è tanta e molti hanno anche i guanti bravi perché hanno capito che non solo la distanza è importante ma anche i dispositivi di sicurezza da adottare, specie quando si rischia che la distanza non sia possibile da rispettare. Un modo di vivere nuovo che ci accompagnerà ancora per un po' di tempo perché questo virus è cattivo, si diffonde facilmente, è presente anche nelle lacrime, pensate. Ma poi queste mascherine ce le togliamo, le dobbiamo sostituire dopo un certo periodo di tempo, esattamente come vanno sostituiti i guanti e dove vanno messi una volta usati. Attenzione perché occorre non farsi trarre in inganno dal materiale con cui sono stati prodotti. Allora, mascherine e guanti vanno sempre gettati nei rifiuti indifferenziati. È bene avvolgere questi rifiuti in due o tre sacchetti per essere sicuri che niente fuoriesca. È materiale che per ragioni di sicurezza va poi portato al termovalorizzatore che li brucia esattamente come i rifiuti speciali ospedalieri. E questo per un motivo semplice. Sia i guanti che le mascherine potrebbero essere venuti a contatto accidentalmente con il virus, essere contaminati e quindi a loro volta diventare veicolo di ulteriori trasmissioni alle persone che i rifiuti li raccolgono o li lavorano negli impianti. Quindi mi raccomando mascherine e guanti nella raccolta indifferenziata sempre. Mai abbandonati in strada perché i dispositivi sanitari sono molto resistenti e potrebbero durare nell'ambiente decine di anni come accade per le buste di plastica o i flaconi di liquidi più resistenti. E vi ricordo questa sera alle 21.15 su Icaro TV e sul sito icara.tv in onda la seconda sfida dell'edizione della campanella da casa, la versione online del gioco delle scuole superiori in onda su Icaro TV, condotto da Otello Melucci e Roberto Bonfantini. Di fronte questa sera l'istituto tecnico statale Odone Belluzzi, Leonardo Da Vinci e il liceo scientifico Albert Einstein e due scuole di Rimini. Siamo in conclusione, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it Grazie a tutti voi che ci avete seguito dalla redazione e l'augurio di una buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.